Allora, adesso dobbiamo fare il passaggio in barca, portiamo la roba, sistemiamo la roba che si embarca, vediamo quello che manca e quello che non manca, poi andiamo al supermercato facciamo un po' di spesetta, veniamo qua, chiudiamo tutto e qui usciamo, dobbiamo andare a lavandare a fare la benzina, oh se ne è macchiuto, questa è la macchina di attraverso, stiamo guardate per me la caccia mia solito dire, di questo luogo che ha la vita, io soli mi fermo è un messaggio che ti ha fatto, sto cercando, è un messaggio che mi ha dato, prima che Grazie a tutti.